Una cosa che mi preme subito dire è che le persone, le associazioni qua presenti e lo stesso CERPA presenti sanno benissimo è che accessibilità ed inclusività non significano, non sono per forza parole legate a disabilità, è un termine molto più ampio, noi vogliamo parlare di questo, nel senso che l'inclusività, l'accessibilità è un tema che colpisce, che coinvolge, che riguarda tante persone anche non disabili. Sì, pensiamo soltanto al fatto che l'Italia è uno dei paesi che sta con un'età media più avanzata e che probabilmente a qualche anno diventeremo forse anche il primo paese o secondo paese al mondo in termini di età, in termini di età. Vi do qualche dato che mi sono preso giù, che in Italia ci sono 7 milioni di persone over 75 anni, il 28% circa vive da sola e una persona su quattro ha una multicronicità, quindi cosa significa? Che hanno più patologie. Ora, anche per loro, anche per queste persone, anche per molte di queste persone, il termine accessibilità o inclusività è un tema importante, quindi una cosa che vorrei subito, come dire, chiarire è che non parleremo per forza di disabilità. Non è un tema che tratta di disabilità, è un tema che tratta tutti noi e in questo progetto abbiamo avuto modo di vederlo. Progetto Si Può, Pratiche di Accessibilità, è un progetto che è nato ed è partito più di un anno fa. Un progetto che è stato abbracciato da tre associazioni di pazienti, tre associazioni che tra poco andrò a presentarvi e che unite, messe insieme, hanno voluto dare il via a questo progetto che ha riguardato molte questioni, ha usato molti strumenti per poter portare il tema accessibilità ed inclusività. Sia le persone, come questa conferenza stampa, che ha l'obiettivo proprio quello di comunicare il tema e di portare, fare aumentare l'awareness su questo tema e portarvi ovviamente anche qualche risultato di questo importante progetto. Io dico soltanto prima di presentare e poi chiudo i nostri relatori, i nostri ospiti, che durante questo progetto abbiamo avuto modo di sentire e di coinvolgere delle persone che hanno testato, hanno provato varie esperienze legate al turismo e al tempo libero. Esperienze, turismo e al tempo libero, molto importanti. Io le definirei quasi anche terapeutici. Sono terapeutici per tutti, per ogni persona. Chi lavora molto, molte volte si sente dire, bene, adesso stacco e vado a fare una corsa per scaricarmi le tensioni, per trovare il proprio benessere anche interiore. Così come la vacanza per staccare anche dalla quotidianità. Bene, questi sono due principi che tutti, è un diritto che tutti dovrebbero avere, tutti potrebbero accedervi, ma abbiamo visto che in Italia, e poi avremo, ripeto, le testimonianze e dei dati, non sempre è così. Non è sempre per tutti, non è accessibile a tutti. Anche cose che molte volte si danno per scontato. Nell'incontro che abbiamo fatto abbiamo sentito molte persone e abbiamo avuto un quadro del comportamento di queste persone. Banalmente l'11% delle persone che abbiamo intervistato non viaggia mai, per esempio, delle persone disabili in questo caso, non viaggia mai, non viaggia mai per vari motivi. Non è solo una questione che può essere pensare uno solo economico, ma anche per delle difficoltà, delle difficoltà che si trovano da quando si esce fuori casa. Addirittura solo il 15% si sente autonomo nella propria città, ed è autonomo magari in casa sua. Si considera una persona autonome, ma nella propria città solo il 15% si sente autonomo. E stiamo parlando della città in cui vive. Pensiamo spostarsi e dover andare in un luogo di villeggiature o fare un'attività a un tempo libero. Detto questa premessa che io ritenevo molto importante per inquadrare proprio tutto il progetto e tutto l'incontro di oggi, passo alle presentazioni che ringrazio di essere qua con noi. Abbiamo quattro persone che sono quattro presidenti, quindi come dire, una conferenza stampa fatta di presidenti, perché abbiamo, parto con Antonella Celano, presidente di APMAR APS, l'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare. Benvenuta. Abbiamo Giovanna Tramonte, presidente di Wildman, Mazzara del Vallo, che è l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, e poi che ci racconterà anche lei cose molto importanti anche di questo progetto, di cosa hanno fatto. Ci sarà Francesca Maccari, presidente di AST, che è l'Associazione Sclerosi Tuberosa. E poi, in ultimo, ma non di certo per importanza, l'architetto Piera Nobili, che è il presidente di CERPA Italia Onlus, che è il Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità, che è il partner tecnico in questo caso, il supporto tecnico, che è stato con noi per tutta la campagna, e che, alla fine, ha redatto un importante documento, che in questa sede di cui daremo qualche informazione, qualche dato da questo documento, qualche informazione da questo importante documento. Detto questo, quindi, io ora mi taccio, ve lo prometto, e passo subito la parola ad Antonella Celano, per raccontarci un po' il progetto, la totalità del progetto e cosa componeva questo progetto. Prego, Antonella. Grazie, Werner, grazie a tutti per essere con noi. Voglio ringraziare le colleghe di AST e di Wilm per il lavoro che abbiamo portato avanti nel tempo. il progetto l'abbiamo iniziato nel maggio del 2021, quindi è stato un lungo percorso. Ma voglio anche ringraziare Socialnet, che oggi non è purtroppo qui con noi, e Socialnet, che è stata poi l'anima del nostro progetto, che ha appunto ci ha aiutato nella progettualità. Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è l'Aviso 2, e quindi abbiamo, grazie proprio a questo finanziamento, abbiamo potuto lavorare sull'accessibilità. E' giusto quello che tu dici, Werner, l'accessibilità e l'inclusività non sono delle persone, è un problema delle persone con l'accessibilità. Però forse noi, chi vive una disabilità, probabilmente ha delle possibilità in genere in meno. Eppure lo sappiamo che tutti abbiamo diritto a pari dignità, a pari diritti, però purtroppo non è così. Ma ovviamente non mi riferisco solo a chi ha disabilità di tipo motorio, ma mi riferisco a tutti i tipi di disabilità, anche a quelle sensoriali, mentali, a chi ha degli esiti da infortunio, esiti da patologie croniche, come per esempio nel nostro caso. Quindi le difficoltà, dicevo, sono tantissime, e le limitazioni che si devono superare sono induverevoli, sono ostacoli quotidiani che si incontrano. Si incontrano nella vita quotidiana, immaginiamo poi in quello che è il tempo libero o addirittura la vacanza. Quindi è una mancata possibilità di esercitare il proprio diritto a vivere una vita piena, una vita come quella di tutti gli altri. e le varie opportunità, lo sappiamo, non sono garantite adeguatamente, soprattutto per quanto attiene poi determinati appunto settori. È come se ancora oggi ci sia l'idea che la persona con disabilità debba vivere o viva relegata piangendo per la propria disabilità. Beh, non è così. Noi lo vediamo. Oggi noi abbiamo delle vite che devono essere normali, facciamo di tutto per avere una vita che sia degna appunto di essere vissuta, vita di qualità, buona qualità di vita, e siamo ovviamente attivi nel mondo del lavoro, lo siamo nel mondo del volontariato, ma vogliamo anche andare al cinema, vogliamo andare in vacanza, vogliamo andare a teatro, vogliamo andare ai concerti, e vogliamo assolutamente appunto vivere come vivono tutti gli altri. È ovvio che lo sport, l'uscire con amici, sono coronamento di una vita che altrimenti non varrebbe la pena insomma di essere vissuta, ma soprattutto il poter partecipare a tutte le opportunità che la vita ti mette davanti significa anche attuare un diritto di cittadinanza che altrimenti non potremmo, non verrebbe attuato. E' ovvio che sottoportare significa non dare possibilità a tutti. E' ovvio va da sé oltretutto che il nostro progetto ha voluto appunto cimentarsi nel cercare di capire quali fossero le difficoltà a cui le persone vanno incontro, ma anche persone che hanno delle disabilità di tipo temporaneo. Quindi abbiamo, ci siamo un po' cimentati in questo. E proprio grazie a questo finanziamento gestito appunto dalle tre associazioni che veramente io non finito mai di ringraziare, abbiamo elaborato una progettualità molto puntuale e articolata. Intanto l'obiettivo era quello di elaborare, sperimentare un modello innovativo di accessibilità e di inclusività. E ci siamo soprattutto concentrati sul turismo e sul tempo libero. Abbiamo poi voluto un'altra azione del progetto che era quella di formare personale volontari nell'ambito turistico, sociale e del tempo libero e che avessero piena padronanza dei temi di accessibilità e inclusività. E poi abbiamo promosso l'accesso al turismo e sulle attività di tempo libero appunto per tutte le persone con disabilità. E le persone che hanno aderito, che sono state incluse nel nostro progetto, hanno potuto viaggiare, scoprire una serie di luoghi, mari, montagne, vivere esperienze culturali, quindi anche luoghi d'arte, coltivare nuove passioni, socializzare con altre persone che magari non conoscevano, ma anche stare in contatto con la natura. Il progetto, devo dire, e ne sono soddisfatta, è sempre stato caratterizzato dall'entusiasmo, ma non solo l'entusiasmo delle persone che usufruivano dei servizi del progetto, ma anche entusiasmo da parte di chi ha collaborato alla buona riuscita del progetto, ognuno per la propria parte, ognuno con un ruolo differente. Perché le persone che abbiamo potuto includere nella realizzazione del nostro progetto sono veramente tante. E anche di questo siamo soddisfatti. Dopo questa breve introduzione, perché vi assicuro ci sarebbe veramente da dire tantissimo, ma chi mi seguirà ovviamente entrerà maggiormente nei particolari, io voglio precisare che, insomma, intanto abbiamo redatto un report finale che sarà consultabile nei nostri siti. Già più tardi sarà fruibile, sarà online. È un lavoro importante, veramente anche per questo devo ringraziare CERPA che si è spesa per queste pratiche di inclusività. E poi come abbiamo agito? Beh, in prima battuta abbiamo avuto un percorso interno di formazione, di formazione e approfondimento che ha potuto permettere alle persone di conoscere effettivamente, di entrare nel merito di quelle che erano le nostre pratiche di accessibilità e di inclusività, quindi quello che le nostre associazioni volevano appunto andare a realizzare. E così c'è stata intanto una formazione interna diretta al personale, al nostro personale, ai volontari dell'ambito turistico, dell'ambito sociale, del tempo libero. Abbiamo fatto una serie di webinar che sono peraltro tutti fruibili dai nostri canali YouTube. È stata una formazione gratuita che ha avuto una grande partecipazione, tant'è che poi abbiamo dovuto anche aumentare il numero di webinar. e ne abbiamo riproposti degli altri anche nel mese di settembre. Una sorta di fuori programma, ma a grande richiesta l'abbiamo ben volentieri fatto. E anche questo sempre grazie alla disponibilità di CERPA. E poi abbiamo avviato la fase di sperimentazione del modello SIPUO. Quindi abbiamo iniziato a fare delle pratiche di accessibilità. Cosa sono le pratiche di accessibilità? Abbiamo concretizzato in 14 diversi eventi dei viaggi rivolti a persone che appunto quotidianamente si misurano con l'accessibilità, con la fluidità dei luoghi, con la fluidità di tutta una serie di attività che di solito sono un po', non sono propriamente fruibili. e le 14 pratiche le abbiamo svolte in 12 regioni italiane e sono state veramente molto interessanti ed entusiasmanti. I commenti che abbiamo ricevuto sono stati di tutto rispetto. Siamo stati in Liguria, a Chiavari, siamo stati a Firenze, siamo stati a Genova, siamo stati in Vartellina, a Grossio, siamo stati a Lecce, siamo stati a Mazzara del Vallo, a Mazzara del Vallo, peraltro la collega Giovanna Tramonte ve ne parlerà, un'attività stupenda. Siamo stati a Mazzara, siamo stati a Napoli, siamo stati a Roma, Scanzano Ionico, Spoleto, Torino, Venafro, insomma tutta una serie di regioni in cui i nostri soci, persone che afferiscono alle nostre associazioni, hanno potuto visitare, hanno potuto trascorrere delle giornate, non solo in relax, ma anche usufruendo di tutta una serie di attività, quindi visite guidate, visite a luoghi d'arte, l'ultima pratica che abbiamo fatto è stata a Roma, presso i Musei Vaticani, quindi anche visite guidate con la possibilità appunto di conoscere. e quindi è ovvio che abbiamo cercato di diffondere questo modello in tutti i modi e abbiamo cercato di dare appunto pari dignità e pari opportunità a tutti. Quindi noi ci auguriamo che il nostro progetto diventi un modello vero, mutuato da tutti, mutuato da tanti, mutuato dalla moltitudine delle persone, anche perché vivendo una disabilità devo ammettere che ad alcune delle pratiche anche io è ovviamente un conto è viaggiare in autonomia, scegliendo dei posti, dovendo scegliere dei posti che molto spesso non si rivelano totalmente adeguati, oltretutto viaggiare con una disabilità significa anche spendere molto 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 più di ciò che spende chiunque altro che può magari viaggiare anche in economia e molto spesso tra virgolette arrangiandosi. Noi abbiamo bisogno di avere delle strutture adeguate, abbiamo bisogno di avere delle attenzioni probabilmente altri, anzi non probabilmente, ma sicuramente altri non hanno. Non entro nello specifico delle pratiche perché devo dirvi che sarebbe impossibile, però i feedback che abbiamo avuto dai nostri associati, la nostra prima pratica è stata quella di Chiavari, di far arrivare delle persone in barca a vela e poi dare a loro la possibilità di visitare la città, di fare quindi anche una visita guidata. È stato qualcosa di estremamente gradito perché altrimenti nonostante oggi si ripetano, ce ne siano tantissime di opportunità, io vedo che tantissime associazioni oggi organizzano pratiche di questo genere, però effettivamente perché non aveva mai avuto la possibilità di farlo, è stato una grande conquista. Io intanto mi taccio Werner, non voglio togliere altro tempo, mi auguro che ci sia tanta interattività perché il nostro progetto racconta tanto, ma racconta non solo le pratiche che abbiamo svolto, ma racconta anche l'entusiasmo che c'è stato nel realizzare quello che abbiamo fatto e che ci auguriamo non rimanga chiuso in un cassetto, ma ci auguriamo che le linee guida che sono state stilate siano utili a tanti e vorranno prenderle a modello proprio per permettere a tutti i cittadini, peraltro contribuenti, questo lo sottolineo sempre, di vivere appieno la propria vita. E ancora grazie a Cerpa, grazie a Socialnet, grazie alle colleghe delle associazioni e grazie a voi, grazie a tutti i volontari che hanno lavorato per il nostro progetto a vario titolo, insomma. Grazie. Benissimo, Antonella. Grazie mille del tuo intervento che già, come avete potuto vedere, sono emersi alcuni punti molto importanti che andremo ad approfondire anche con i prossimi interventi. Quindi, 14 pratiche in 12 regioni. poi avremo modo anche di andare magari a raccontarvi qualche pratica di queste e il feedback anche che è stato dato come diceva giustamente Antonella. Un augurio che è quello di poter replicare in qualche modo e migliorare l'accessibilità e l'inclusività di questi posti appunto del turismo e del tempo libero grazie anche al rapporto che è emerso, che è il rapporto che ha fatto questo rapporto con delle linee guida in cui vengono date proprio delle informazioni utili precise e utili a operatori del turismo volontari associazioni proprio per cercare di creare questo ambiente più inclusivo. Quindi passo adesso la parola invece a Francesca Maccari presente di AST a cui vorrei chiedere un po' cosa vi ha spinto effettivamente ad abbracciare questo progetto che è stato impegnativo perché chiaramente sono associazioni che hanno altro che seguono anche le persone disabili e quindi è un progetto in più che è entrato nella loro organizzazione nella loro programmazione quindi cosa vi ha spinto ad abbracciare questo progetto perché ne sentivate la necessità di portare avanti un progetto come questo prego Francesca grazie buongiorno a tutti cosa mi ha spinto ci ha spinto il fatto che noi come AST da quasi vent'anni abbiamo facciamo turismo turismo a livello associativo per cui noi abbiamo sempre approfittato delle nostre assemblee nazionali delle delle estate per coinvolgere i nostri soci anche a spostarsi da casa per andare mettendo insieme l'assemblea dei soci con gruppi di ragazzi e dei figli a fare dei weekend di autonomia con educatori e con in più durante l'estate noi organizziamo sempre una vacanza associativa siamo partiti con dieci dieci persone quattro cinque famiglie siamo arrivati ad essere quasi 30 famiglie e anche di più negli ultimi anni prima del covid in questo non siamo mai nello stesso posto l'abbiamo fatto proprio per scelta abbiamo proprio girato l'Italia perché perché tante famiglie nostre non si muovono mai da casa non escono perché hanno particolari esigenze di spazi esigenze di attenzione verso i figli piuttosto complesse a livello cognitivo a livello comportamentale per cui non è sempre semplice trovare il posto adeguato per rilassarsi a volte più rilassarsi stare in casa farsi una passeggiata nella propria città piuttosto che andare in giro e seguire sempre il provvedimento senza godersi veramente la vacanza quindi abbiamo sempre cercato di organizzare imposti che ci accoglievano o che credevamo ci accogliessero ma non è sempre stato così e questo progetto mi ha dato l'idea di aderire proprio per puntualizzare queste cose per poter riuscire anche noi a focalizzare le problematiche più grosse e riuscire a metterle in piazza a metterle a vedere come risolvere queste problematiche che comunque abbiamo sempre poca disponibilità da parte che ne so dei camerieri e dei ristoranti poco spazio ecco noi ci siamo ritrovati spesso e volentieri in spiagge dove ci facevano stare recintati cioè ci affidavano dell'esdraio con il recinto cioè questo è il vostro posto di qua di là ci sono i clienti abituali voi siete di qua era molto imbarazzante questa cosa perché sembrava proprio di essere abbiamo sempre cercato di far finta di niente però dentro avevamo una rabbia veramente grossa perché la cosa dell'inclusività il discorso dell'inclusività inizia proprio da questo io sono uno in mezzo agli altri e gli altri devono imparare ad accettarmi chiaramente avevamo gli educatori che li seguivano quindi erano molto monitorati i nostri ragazzi e questo è stato più di un'occasione ultimamente succede molto meno perché prendiamo spazi più grandi dove comunque la disponibilità c'è però da qui a parlare di inclusività è molto grossa io volevo portare l'attenzione alla lettera di una nostra socia pugliese che si è trovata in vacanza in Calabria solito posto doveva sempre quest'anno aveva dei problemi un pochino più importanti col figlio che ha sempre frequentato il miniclub di quella struttura e nessuno ne ha mai detto niente quest'anno che ha puntualizzato il fatto che il ragazzo aveva il bambino aveva qualche problemino in più ma che lei era lì a due passi potevano chiamare che non era assolutamente problematico dal punto di vista dell'aggressività che potevano chiamarla in qualsiasi momento bene le è stato detto che i bambini disabili nel miniclub non erano accettati e da lì ha scoperto che non solo suo figlio ma anche altri o da un qualsiasi altro tipo di disabilità era esclusa da quel miniclub dove il bambino era sempre stato si è sempre trovato bene dove poteva benissimo partecipare è molto brutta è stata molto brutta questa cosa questo approccio anche perché la mamma fa la vacanza per rilassarsi un attimo il miniclub ti dà magari l'opportunità due ore al mattino due ore al comereggio di rilassarti senza avere negli occhi tuo figlio che cerca di giocare con qualcuno che non vuole giocare con lui questa è di nuovo una denuncia molto forte una denuncia molto forte perché secondo me se si organizzano delle cose e sono inclusive sono cose aperte a tutti gli ospiti di una struttura qualsiasi ospite deve essere benvenuto e accettato senza avere veramente dei paletti così grossi in più è anche successo che le hanno risposto anche male dicendo che sarebbero arrivati gli ispettori che li avrebbero penalizzati che è brutta e bisogna combatterla bisogna combatterla poi ne parleremo dopo ma è una questione molto importante molto importante perché anche noi ci siamo ritrovati anche in situazioni di questo genere come lo stesso come diceva Antonella il fatto di poter visitare con libertà una città d'arte o una città aperta tutti noi abbiamo fatto queste pratiche queste pratiche apposta per puntualizzare un po' gli aspetti negativi e positivi della dell'organizzazione delle aziende che si sono prestate ad ospitare i nostri ragazzi a fare da guida turistica anche lì non sempre è andato tutto bene però molto c'è da fare io non so se a livello legislativo comunque parto dal preconcetto che è la disponibilità mentale quella che conta la disponibilità di chi ha delle strutture di chi di chi fa delle cose di chi offre un servizio e che il servizio si è rivolto a tutta la cittadinanza a tutta la cittadinanza deve essere rivolto io mi ricordo le mie prime vacanze associative in AST quando qualche mamma mi diceva come sono contenta guardo mio figlio sulla spiaggia giocare con gli altri bambini e non mi sembra vero era sempre sole abbandonato a se stesso con noi che lo guardavamo da lontano questa è stata per me veramente la rivelazione che a parte il fatto che lo facciamo come progetto nostro di AST tutti gli anni e che quindi cerchiamo di valutarlo anche valutando il servizio valutando il benessere delle persone che hanno partecipato a questo tipo di esperienze però ripeto la vacanza non è solo per i ragazzi con problemi nella vacanza c'è tutta la famiglia quindi ci sono i fratelli ci sono i parenti dei parenti e di conseguenza diventa inclusivo in quel senso lì anche per chi non si conosce non si è mai visto il fratello di un bambino con sclerosi tuberosa può essere già un punto di riferimento di inclusione di partecipazione al gioco di partecipazione all'attività che si che si concordano ecco questo è quello che noi abbiamo e io sono veramente contenta di aver potuto fare questo questo lavoro insieme a CERPA che ci ha aiutato nella ricerca di chi poteva aiutarci insieme a social net che ci ha offerto questa possibilità e insieme alle due colleghe delle altre associazioni è molto importante confrontarsi bisogni comuni bisogna esprimerli insieme perché da soli poi malati rari diventa ancora più difficile poterli esprimere e poter poter cercare di essere incisivi nelle scelte nella formazione di chi deve fare cosa ecco perché questo è importante noi ci portiamo sempre dietro i nostri educatori il nostro coordinamento in maniera che i nostri ragazzi siano monitorati nella maniera più giusta e anche nei weekend di autonomia stanno da soli in un albergo come gruppo e lavorano da soli lavorano sulle autonomie lavorano sulla cultura perché io scusate ma tergiverso perché mi vengono in mente dei flash che ho vissuto personalmente noi facciamo un weekend abbassando del grappo tutti gli anni e andiamo a vedere il monumento per anni il sindaco del posto ci ha sempre guidato in una visita dentro alle zone di guerra della prima guerra mondiale avevamo due ragazze a cui non avremmo detto che sarebbero interessati beh là dentro è venuto fuori il meglio di loro stessi hanno fatto delle domande alle quali che non ci aspettavamo facessero e questo sempre ti dà l'idea che sei lì con l'intervento giusto di seguire quella strada ma non siamo noi solo che dobbiamo seguirla ci devono seguire anche chi fa parte della nostra organizzazione chi ci aiuta ad organizzare queste cose grazie 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 grazie